Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Per prima cosa fatemi salutare e ringraziare Gerardo, Emanuele, Gaetano e Rocco, quattro nuovi abbonati alle mie lezioni. Video lezioni che trovate qui sul canale in una sezione dedicata a soli 2,99€ al mese. Prima di guardare insieme il campionato degli Stati Uniti che inizierà stasera, voglio farvi vedere la partita che ha deciso il campionato russo che si è appena concluso e giocato a Mosca. Di bianco ritroviamo un beniamino del canale, Daniel Dubov che al comando del torneo deve giocare l'ultima partita contro l'esperto, grande maestro, Iliushenok. Non dimenticate di like al video, partiamo! Dubov di bianco apre con E4, Iliushenok risponde con E5. E allora cavallo in F3, cavallo in F6, siamo nella difesa russa. D4 giocata da Dubov è la terza mossa più giocata che naturalmente minaccia di catturare di pedone, ora il nero deve scegliere se catturare di cavallo o di pedone. In questa partita il nero ricattura di cavallo che è la risposta più classica, anche quella più giocata. Allora il fieri in D3 attacca il cavallo che viene difeso con la spinta di E5 e adesso tocca scegliere al bianco come riprendersi il pedone, se è di cavallo o di pedone. Dubov ricattura in E5, oppure cattura in E5 di cavallo. E allora cosa è successo dopo queste catture? Che la colonna E è diventata colonna aperta. E allora bisognerà lottare per il controllo di questa colonna. Cavallo in B che va in D7, attenzione adesso allo sviluppo dei pezzi neri, per esempio se il nero potesse giocare una seconda volta di fila giocherebbe donna in E7, tutto appuntare sulla colonna E. Per questo motivo di solito il bianco è lui che cambia in D7 e poi gioca a Rocco Curto, invece Dubov sceglie cavallo in C3. Quarta mossa più giocata, quindi abbastanza fuori dalle linee principali, che però fa delle belle minacce. Tant'è che nella pratica è la linea che dà al bianco i risultati migliori. Allora alfiere in B4 inchioda questo cavallo appena sviluppato sul re, Dubov arrocca subito corto, cavallo per cavallo in E5, il pedone D ricattura, gli è rimasto il cavallo e quindi un pedone sotto attacco. E allora cavallo per cavallo in C3, il pedone B ricattura, alfiere che cattura in C3 e che minaccia anche la torre. Quindi il nero di Uschenok ha vinto un pedone, eppure pensate che dopo torre in B1 il bianco ha uno score del 73,5%. E come mai? Perché a costo del pedone B ha due tempi di sviluppo di vantaggio, che sono l'arrocco e la torre sulla colonna semiaperta. Certo, ora sta il nero, ma vedete, non sarà facile per il nero sviluppare questo alfiere campo chiaro, che intanto sta proteggendo questa casa B7 e poi il suo naturale sviluppo per renderlo attivo è bloccato. Attenzione perché se il nero non arrocca subito corto, c'è anche la possibilità per il bianco di giocare alfiere in A3, che preclude l'arrocco corto al nero. E allora il Uschenko, anzi il Uschenok, gioca subito arrocco corto, mossa migliore, eppure pensate che siamo ancora in teoria e c'è un tatticismo ben conosciuto. Alfiere per pedone in H7 con scacco, libera la casa D3, il re è costretto ad accettare l'alfiere, donna in D3 con scacco, si riprende il pezzo, re in G8, donna che cattura in C3. B6 in questa posizione mossa più giocata, migliore e più ambiziosa è probabilmente A5, giocata dal nero in questa partita. A cosa serve questa A5? La grande debolezza del nero è proprio il fatto che gli manca un pedone dell'arrocco. E allora torre in A6, dopo questa spinta G5, può essere portata in maniera offensiva e difensiva sia in G6 che anche, ora in H6 no perché c'è l'alfiere, diciamo in G6. Allora, torre in D1, torre in E8, ancora una partita in database, nella quale l'egiziano, il più forte giocatore africano, Bassem Amin, proprio quest'anno ha giocato H3, vincendo contro il fortissimo Abasov. E invece Dubov completa lo sviluppo con l'alfiere in F4, connette le torri, e alla mossa 15 la partita diventa originale. Allora bisogna sviluppare anche per il nero, donna in D7, torre in D3, attenzione, vedete brutto, torre in G3 ed alfiere in H6, e allora, cosa, ora qui ho messo questa freccia, questa mossa sarebbe totalmente inutile, no? Perché perde un tempo, e allora arriva torre in G3, vedete che la donna non riesce a, a rientrare in difesa, e allora giustamente il nero gioca donna in F5, che arriva anche con tempo, si rende attiva sul lato di Re, donna in D2 protegge l'alfiere, attenzione però che questo pedone, che sembra attaccato due volte, in qualche modo è strategicamente, o tatticamente protetto, perché se la torre cattura, alfiere in E6, attacca subito questa torre, che si dovrà spostare probabilmente, e ritornerà in D3, l'alfiere si riprende il pedone, crea un pedone passato, è anche vero che torre in A1, inchioda l'alfiere sul pedone, in qualche maniera il bianco si riprende anche, il pedone in A5, ma vedremo che il nero starà benino, quindi ci sono diverse complicazioni, attenzione perché non ci sono soltanto queste complicazioni, la posizione anche se non sembra, sta diventando complessa, allora cosa dovrebbe fare il nero? Torre in A6 rimane l'idea migliore, forse anche la più efficace, perché fa uscire sicuramente la torre, fa entrare la torre in gioco, e invece il nero gioca a donna in H7, Dubov rischia, ora qui cosa dovrebbe fare il bianco? Probabilmente migliorare la posizione dei pezzi, quindi probabilmente anche torre in E1 è buona, e invece Dubov rischia e cattura al centro, allora vedremo proprio quello che abbiamo visto prima, torre che cattura in D5, ma il Yushenok non gioca alfiere in E6, andiamo a vedere il perché, dopo alfiere in E6 che è sicuramente l'idea migliore, torre in D3, alfiere per pedone, torre in A1, ora attenzione perché spostare questa torre in C4, che sembra buona perché arriva con tempo, non funziona perché arriva torre in G3, e guardate non c'è niente che possa impedire la manovra di alfiere, alfiere in G5, alfiere in F6, col pedone inchiodato sul re, e allora dopo torre in A1, bisognerà tornare con l'alfiere in E6, torre per pedone, torre per torre, la donna ricattura, ma arriva a donna in H4 con tempo, alfiere in G3, è vero che attacca la donna, ma toglie la casa G3 importante alla torre, e blocca un po' i suoi pedoni, donna in C4 attacca e protegge, ed il nero sta benino, ritorniamo a noi, invece cosa succede dopo questa cattura? Succede che, il diushenok gioca B6, e invece bisognava, come abbiamo visto, giocare alfiere in E6, torre in D4, alfiere in E6, ma il pedone tranquillamente avanza in A3, e il bianco sta sicuramente meglio, donna in G6, perché in H7 non ci faceva niente, quello è stato il primo errore, torre in E1, e arriva C5, torre sotto attacco, si riporta in D3, alfiere in F5, attacca la torre, allora torre in D6, attacca la donna, e attacca il pedone, e allora il nero deve rispondere, con torre in E6, qui è tutto protetto, torre in E3, per portarla in G3, come mai il nero non cattura il pedone in C2? andiamo un po' a vedere che succede, posizione estremamente complicata, dopo alfiere per pedone, che è giocabile, arriva torre in D8 con scacco, a cosa serve questo scacco? Torre in E8, torre per torre in A8, la torre ricattura, torre in G3, attacca la donna, attenzione che la donna non si può spostare da questa diagonale, donna in F5, protegge sia il pedone che l'avanzata, scusatemi, sia l'alfiere che l'avanzata del pedone in E6, ma la torre è un po' fuori dai giochi, e allora, alfiere in H6 è forte, G6 è praticamente forzata, e adesso con la donna che non si può muovere, sta arrivando H4 eppure H5, che attacca il tonno inchiodato, quindi posizione pericolosissima per il nero, però il nero non ha grandi idee di controgioco, e allora raddoppia le torri sulla colonna E, torre in A che va in E8, torre in G3, l'intermedia che attacca la donna, donna in H5, torre in G5, e allora la donna per proteggere l'alfiere, è costretta a portarsi in H7, e Dubov può tranquillamente spingere in H4, perché il pedone non si può catturare, se no si perde l'alfiere, e allora cerca di togliere forze all'attacco il Yusheno, che gioca torre per torre in D6, è il pedone E che ricattura in D6, guardate è diventato un pedone passato pericolosissimo, alfiere in D7, blocca il pedone passato, toglie la debolezza tattica dell'alfiere sotto attacco, difeso solo da un pezzo, in questo caso la donna, ma noi siamo arrivati al nostro quizzone. Qual è l'unica mossa veramente forte a disposizione del bianco? Mettete pure in pausa, e da voi la parola. Ritorniamo subito a noi, perché Dubov giocherà alfiere in E5, che è fortissima, e qui che si fa? Se il nero gioca G6, arriva H5, e come al solito il pedone è inchiodato, guardate che attacco, peggio ancora quanto fatto dal nero in partita, donna che cattura in H4 non serve a niente, perché pensate, è alfiere in F6, con un alfiere che sembra in presa, ma che non lo è, perché il pedone inchiodato è ancora più forte dell'immediata cattura in G7, e allora la donna si deve spostare, donna in E4, cosa vuol fare il nero? Il nero vuol dare lo scacco di donna, cambiare le donne e rientrare in partita, ma Dubov non gli dà tempo. Torre che cattura in G7 con scacco, lo scacco matto è già forzato sulla scacchiera. Il re si sposta in F8, naturalmente se fosse portato in H8, arrivava subito lo scacco matto di donna, donna in H6 matto, anzi scusate, donna in H6 matto a quella dopo, perché la donna può rientrare, poi c'è lo scacco matto, ma di nuovo arriva donna in H6, e il nero abbandona, perché dopo donna in E1 con scacco, il re si sposta in H2, non ci sono più scacchi, perché c'è l'alfiere che protegge la casa E5, non si può evitare il matto in H8, e quindi anche se il nero gioca donna in E4, arriva torre in G4 con scacco. E guardate che bellissimo matto. E Dubov con questo bellissimo matto vince la super finale del campionato russo, speriamo che la guerra contro l'Ucraina finisca presto, prima di tutto per le tantissime vittime, ma anche per rivedere questi grandi campioni a giocare serenamente nei tornei internazionali. Spero che la partita vi sia piaciuta, non dimenticate di like al video, non dimenticate di iscrivervi al canale, e noi naturalmente ci vediamo presto per guardare insieme il campionato degli Stati Uniti. e noi naturalmente ci vediamo il campionato degli Stati Uniti. e noi naturalmente ci vediamo il campionato degli Stati Uniti.